Io candido come Presidente di due formazioni, la Lega Nord e i Cattolici Europei Uniti. Noi avremmo voluto, fin dall'inizio, siamo stati i primi, credo, ancora a maggio, a dire che occorreva mettere insieme tutte le forze alternative al centro-sinistra per fare una squadra forte, una squadra che poteva competere contro, in questo caso, il candidato Rossi. Quindi eravamo anche disposti a dialogare con Progetto Trentino e siamo andati anche a cercare di avere questo dialogo e con le civiche. Questo dialogo non c'è stato, è stata una chiusura totale, dall'inizio fino anche all'ultimo momento. E a questo punto qua la Lega ha deciso di correre da sola, ma noi credevamo che questa tornata fosse una tornata utile per un'alternativa forte al centro-sinistra. Mosna ha deciso di, probabilmente, di far vincere il centro-sinistra per andare a trattare successivamente qualche assessorato, qualche presidenza del Consiglio, questo lo capiremo dopo le elezioni. Però la Lega si presenta, credo, con la coerenza e la coscienza di aver fatto cinque anni di opposizione in Consiglio Provinciale. L'unica vera grande opposizione siamo stati noi su tanti temi, sui quali parleremo, per esempio le comunità di Valle. Oggi su 11 candidati, l'altro giorno c'è stato l'incontro di tutti i candidati, un solo candidato ha detto che è favorevole alla comunità di Valle, la Presidente della Valle di Fassa. Nove candidati hanno detto che sono contrari, rossi hanno detto che vanno modificate. Quindi quando noi due anni fa abbiamo fatto il referendum, abbiamo raccolto il referendum, abbiamo fatto il referendum, ci chiediamo dove erano questi candidati che oggi dicono di essere contrari. Quindi su questo tema principale, come su altri, crediamo di aver fatto la nostra parte. Il Trentino di cosa ha bisogno, cosa non è stato fatto e cosa c'è da fare? Leggendo i giornali, sentendo i programmi degli altri presidenti e degli altri partiti, sentiamo parlare spesso di riforma istituzionale, quindi comunità di Valle, infrastrutture, quindi Valdastico sì o no, Metroland sì o no. Sono altre questioni, turismo, questioni sicuramente importanti, questioni che nel nostro programma di 5 anni fa erano molto chiare, ma che oggi sono così chiare, cioè noi diciamo Sierra Valdastico, diciamo no a Metroland, diciamo no alle comunità di Valle, diciamo stop alla burocrazia della provincia che ormai sta diventando elefantiaca. Però ci sono altri problemi ancora, forse più importanti di questi, di cui si parla relativamente poco. Sono il lavoro per i giovani, disoccupazione in provincia di Trento al 22%, dato ultimo, i dati che verranno parlano di un picco al 25%, un giovane su 4 in provincia non lavora. Le nuove povertà, i cinquantenni espulsi dal mondo produttivo, soprattutto a Trento a Rovereto dove ci sono le industrie, che hanno lavorato in fabbrica a 25 anni, le fabbriche chiudono, cosa fanno questi? E gli anziani, gli anziani che una volta con un milione di lire arrivavano alla fine del mese, oggi con 500 euro non arrivano alla fine del mese. In Trentino ci sono 50 mila pensioni di vecchiaia, a segno medio 570 euro. Noi diciamo che queste sono le nuove povertà che si stanno avvicinando, quindi Val d'Astico, Comunità di Val, tutti i temi importanti. Però adesso dobbiamo utilizzare le risorse del Trentino che ci sono e sono ancora tante, al di là dei tagli che ci sono stati, dopo diremo anche delle risorse. Utilizzare le risorse per aiutare i giovani e dobbiamo capire perché da noi la disoccupazione al 22 a Bolzano all'11 è uno scandalo, con la stessa risorsa, la stessa autonomia e le stesse competenze. A Bolzano all'11 e da noi al 22 e sono tanti anni che è il doppio la disoccupazione giovanile a Trento rispetto a Bolzano. Queste sono le problematiche su cui dopo diremo. Lei parlava prima, giustamente, di lavoro. Allora, cosa fare per favorire l'occupazione e dunque la crescita dell'impresa? Perché sono due cose decisamente collegate, Fugatti. Le risorse del Trentino devono andare a favorire l'occupazione giovanile e neanche quella meno giovanile. Per esempio, noi diciamo, diamo un contributo di 500 euro al mese per ogni neossunto che l'impresa ha. Sia la piccola impresa, l'artigiano, che la grande impresa. 500 euro al mese sono 6.000 euro all'anno per un neossunto. Fatti due conti, potenzialmente, con 30 milioni di euro, noi potremmo arrivare ad assumere 5.000 nuove persone. I disoccupati in Trentino sono circa 20.000, quindi è un'operazione che tecnicamente, diciamo, è fattibile. E questo va sia per i giovani che per i meno giovani. Il tasso di emigrazione in provincia di Trento, negli ultimi 5 anni, è aumentato del 35%. I giovani prendono e se ne vanno. Vanno a lavorare in Germania, in Austria, in Australia, in Inghilterra. Nel ricco, moderno, autonomo, tecnologico Trentino ci avevano detto che eravamo la Silicon Valley, ci ricordiamo benissimo. I giovani se ne vanno. Questo non avviene a Bolzano. A Bolzano il tasso di emigrazione, nonostante siano più vicini alla Germania, diciamo, o all'Austria, è del 15%. Noi abbiamo livelli di emigrazione che sono uguali a quelli delle altre regioni, Lombardia e Veneto. Con la nostra autonomia, con le nostre risorse, noi non siamo in grado di fare meglio dell'autonomia e del Veneto. Allora, competitività delle imprese. Vediamo che adesso la provincia sta parlando di avere la competenza sulle imposte locali, come l'Imu. L'Imu non è un'imposta completamente locale, però questa è una strada giusta. Però non dobbiamo aspettare che Roma ci dia la competenza per poi avere uno sgravio per le nostre imprese. Dobbiamo agire subito e noi diciamo che l'Imu attività produttive sono 60 milioni in Trentino. E noi crediamo che ci siano le risorse, se non totalmente, ma per parzialmente sgravare le imprese di questa cifra. E per sistemare Piazza Dante e i suoi frequentatori e far rinascere le zone tipo San Martino e Piazza Venezia? Guardi, oggi vediamo per esempio che si è giustamente scatenata le proposte sulla Piazza Portela. Su Piazza Portela il primo movimento, i primi consiglieri comunali che si sono recati in Piazza Portela, dopo che ha messo le panchine, che lì è diventato una brutta cosa a cielo aperto, vedere anche nelle ore quotidiane, è stata la Lega. Adesso vediamo che in Campania Naturalia arrivano tutti, hanno tutte le loro proposte, gli stessi che governano in comune vengono e fanno le proposte per risolvere Piazza Portela. Va benissimo, in Campania Naturalia ci sta di tutto, sia chiaro. Però noi crediamo che il controllo del territorio non è che te lo inventi in Campania Naturalia, te lo inventi nel tempo. Noi abbiamo delle forze dell'ordine, sia di competenza ministeriale, come le forze della polizia e i carabinieri, sia le forze dell'ordine locale, i vigili urbani. Da un forte rapporto tra le forze dell'ordine, chiamiamole nazionali e quelle locali, si fa un controllo ferreo del territorio, chi è in regola, chi è spaccia anche quel poco che spaccia, deve essere messo nelle condizioni di non tornare più in quella piazza lì. Allora, dove governiamo noi questo non accade. Verona era una piazza come, era una città come se uno andava a farsi un giro in Via Mazzini, otto anni fa, nove anni fa, era come Piazza della Portela, identico come Piazza Dante. È arrivato un sindaco che non ha armato nessuno, ha controlli, 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 controlli e il centro di Verona si è liberato con il sindaco Tosi. Noi crediamo che si debba fare questo, è chiaro che se i controlli fai una volta al mese o una volta alla settimana questo non può avvenire, nonostante il bonismo che c'è. Il bonismo è una parte politica di questo centrosinistra. Il centrosinistra è bonista, però se le politiche del controllo del territorio le si fanno, crediamo che i risultati possono venire. Ci scrive un altro telespettatore che dice, non si firma, dice è ora di smantellare il sistema che fino adesso ha imperato in Trentino. Questo ci scrive il telespettatore e poi un altro che ci chiede dell'agricoltura ma sarà una delle prossime domande. Intanto andiamo avanti con Maurizio Fugati. Allora, autonomia a rischio? Cosa fare per salvaguardarla? Dovrà essere più responsabile? Cosa si deve fare Fugati? Noi crediamo che l'autonomia oggi sia salvaguardata grazie all'accordo di Milano che il governo di centrodestra, il ministro Tremonti e il ministro Calderoli, fecero con Trento e con Bolzano ancora nel 2009. In quel momento ci furono tante critiche a questo accordo. Oggi se non ci fosse questo accordo che ha blindato il nostro statuto di autonomia all'interno di binari molto chiari, oggi se non ci fosse questo accordo le scorribande dei vari governi che poi si sono succeduti, il governo Monti e adesso vediamo che sulla riserva dell'erario anche il governo Letta che sta facendo le scorribande, sarebbero molto ma molto più pesanti nei confronti dell'autonomia del Trentino. Quindi ricordo benissimo quando il PAD, che adesso è il governo a Roma e non dice nulla del fatto che la riserva dell'erario garantita dalla Corte Costituzionale per Trento, Roma se la vuole tenere, sono circa 140 milioni per tre anni, Roma se la vuole tenere, il PAD quando noi avevamo fatto l'accordo di Milano si lamentava che era un accordo troppo non rispettoso dell'autonomia del Trentino. Se non ci fosse stato quell'accordo là, vista la crisi economica che è arrivata dopo e che il Paese sta subendo, le richieste per l'autonomia sarebbero state molto ma molto più pesanti. Quindi l'autonomia salvaguardata dall'accordo di Milano e l'autonomia che si può rafforzare all'interno di un Paese che va verso una riforma federale, una riforma federale che dia maggiori competenze e anche risorse alle altre regioni, le loro risorse, non le nostre risorse, le loro risorse. In questo modo il modello del nostro Statuto dell'autonomia è un modello al quale le altre regioni possono aspirare e che lentamente crescono la loro autonomia. Così si salvaguarda l'autonomia. Se noi pensiamo di chiuderci nel fortino, siamo stati bravi e non ce l'abbiamo fatta finora, però la riforma federale salvaguarderà l'autonomia del Trentino. Fugatti, allora, sanità territoriale o trentocentrica e poi stato sociale. Mancano, i soldi diminuiscono, bisogna tagliare, dove tagliare e come? Se tagliare. Nel programma del Pazzo di 5 anni fa c'era scritto che il reparto di maternità di Borgo sarebbe stato riaperto. Oggi non mi pare che il reparto maternità di Borgo sia funzionante. Anzi, nel tempo altri ospedali di periferia sono stati lentamente, anzi velocemente, depotenziati. Ala non è più un ospedale, verrà chiuso sia il reparto di riabilitazione cardiologica che il reparto di riabilitazione fisiatrica. Ci sono appunto i problemi a Borgo, mezzo Lombardo sappiamo cosa è successo, ci sono notizie che anche ad Arco e Rovereto alcuni reparti cominciano a ballare. Si vuole fare il NOT, spostare da Santa Chiara in linea d'aria a 500 metri e spostarsi a Ravinia, 200 milioni di euro, 160 milioni di lire più IVA che costa la provincia come prima tranche. Poi costa altri 40 milioni di euro di canone annuo per 15-20 anni. Con quei soldi lì cosa potremmo fare? Stato sociale, con quei soldi lì, quei 200 milioni di euro lì, noi potremmo trovare quei 5.000 nuovi assunti che dicevamo prima con 500 euro al mese per ogni neo assunto, costa 30 milioni. Noi potremmo portare tutte le pensioni di vecchiaia che sono inferiori a 1.000 euro, in Trentino ci sono 50.000 pensioni di vecchiaia a segno a meno 570 euro, potremmo portarle a 1.000 euro, costo 40 milioni, 30 di prima più 40 fa 70. Noi potremmo pagare l'IMU delle attività produttive, l'IMU dei alberghi, dei capannoni, i trentini pagano 60 milioni e arriviamo a 130.000 e se volessimo potremmo anche abolire il bollo auto, perché il bollo auto è una tassa provinciale che costa circa la provincia 60 milioni. Io ho fatto 4 conti, cosa riusciamo a fare con 200 milioni? Quindi lo stato sociale non va tagliato, non va tagliato. Gli anziani vanno tutelati, gli ospedali vanno tenuti con le proprie, è chiaro che non possiamo fare 10 Santa Chiara nelle valli, questo è chiaro che non lo possiamo fare, però con dei servizi minimi lo possiamo fare. Abbiamo altri messaggi, un altro messaggio appunto rivolto a Maurizio Fugatti, che si complementa appunto per quanto detto e questo telespettatore esprime la sua preoccupazione appunto per le zone come Piazza della Portela. Ho paura, scrive per me e per il futuro dei miei figli, pensare che possano diventare consiglieri persone che difendono la violenza e la malavita, così scrive questo telespettatore. Su questo aspetto, io su Piazza della Portela, ho ascoltato prima cosa diceva il dottor Arisi, è molto coerente il dottor Arisi perché lui dice, lui crede che quelle persone che vanno in Piazza della Portela debbano essere anche seguite. Benissimo, noi non siamo d'accordo, è una posizione. Quello che fa scandalo è la posizione di alcuni partiti come il PAT, che oggi va in Piazza della Portela, governa in provincia, ha avuto Panizza Assessore, ha avuto Rossi Assessore e adesso si dice contrario a quelle persone, mentre finora non ha fatto nulla. È molto più coerente il dottor Arisi su questi temi. Allora, Fugatti, quale scuola per una scuola di qualità? Io credo che la scuola debba creare lavoro, soprattutto in questo momento di difficoltà. Quindi vanno potenziati gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Non serve andare in Australia per vedere cosa bisogna fare. Basta fare 30 chilometri e andare a Bolzano, dove la disoccupazione giovanile è la metà di quella trentina. Perché è così? È così perché nel tempo a Bolzano si è costruito un rapporto, un sistema duale, si chiama, tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa. Mentre il ragazzo va a scuola, alle scuole professionali soprattutto e anche con le tecniche, nel frattempo comincia anche a lavorare in collaborazione con qualche azienda. Questo ha permesso che a Bolzano la disoccupazione giovanile sia la metà di quella di Trento. Quindi noi qui abbiamo dormito negli ultimi 15 anni. Perché il ministro Giovannini, il ministro del lavoro dell'attuale governo, di fronte al dramma della disoccupazione giovanile nazionale, è venuto in Trentino Alto Agi a vedere come siamo bravi. Non è venuto a Trento, è andato a Bolzano. E noi con le stesse competenze, le stesse risorse, la stessa autonomia, non siamo stati in grado di costruire un sistema scolastico come a Bolzano. Non serviva andare in Australia per imparare. Io sono stato all'assemblea della CISL Scuola settimana scorsa. E i rappresentanti dell'assemblea della CISL Scuola hanno detto, loro l'hanno detto, non io, che quanto ha fatto la provincia negli ultimi anni per migliorare il sistema della formazione nelle scuole professionali e tecniche è niente. È lì che crea il lavoro. Non è che dobbiamo farli diventare tutti universitari, tutti che sanno cinque lingue. No, non serve. Servono quelli che fanno l'artigiano, che fanno il tecnico specializzato. Servono questi. Allora forse riusciamo a diminuire la disoccupazione giovanile. Noi abbiamo dormito 15 anni su questo tema e chi ha dormito questi 15 anni deve anche assumersi le sue responsabilità. Ancora parliamo di questi temi, dunque turismo, Fugatti, turismo come va cambiato? Adesso diciamo l'attenzione è sempre stata puntata su una promozione di eventi. Come va cambiato soprattutto il collegamento con l'agricoltura e il futuro dell'agricoltura come ci chiedeva il telespettatore? Innanzitutto il turismo chiaramente per il Trentino è una risorsa importante. Di fronte alla concorrenza di altre mete turistiche non trentine e anche non italiane che molto spesso vengono raggiunte anche con costi facili, diciamo, crediamo che il turista che viene in Trentino debba essere messo nelle condizioni di venirci facilmente in Trentino. Se uno vuole andare a Riva e parte da Modena un sabato mattina d'estate rischia di farsi in colonna da Affi, se non prima, fino a Rovereto Sud e dopo si rimette un'altra volta in colonna dopo la Galleria di Mori fino a Torvole e avanti. Quindi il collegamento l'oppio-busa, che ormai è uno scandalo che non ci sia ed è che è promesso ad ogni elezione da parte di chi poi vince, è da fare, è necessario. E occorre riflettere anche sull'ipotesi della terza corsia autostradale. Quindi ci sono delle questioni turistiche sulle quali noi dobbiamo investire perché altrimenti il turista rischia che vada un'altra parte, perché con la concorrenza che oggi c'è questo è normale. Per quanto riguarda l'agricoltura, noi abbiamo delle specificità importanti come il settore delle mele che va bene così, però c'è anche il settore vitivinicolo dove abbiamo due grandi colossi, due o tre grandi colossi della cooperazione che devono secondo noi fare gli interessi del territorio, lo devono fare, cercando di apprezzare le specificità del territorio, quello che c'è, non fare solo commercio come purtroppo spesso accade, ma migliorare le specificità del nostro territorio. Questo collegherebbe l'agricoltura al turismo e poi abbiamo ancora la questione di Trento Doc che indubbiamente non parte e che siamo ancora a rimorchio del prosecco, diciamo così, che è una cosa sulla quale occorre cominciare a riflettere. Nel frattempo ci avviamo verso la conclusione e ci arrivano intanto altri messaggi. Allora, buonasera, scusate, ma se portano tutte le pensioni a 1000 euro quelli che hanno lavorato per 40 anni e ne prendono 1200, hanno lavorato per niente. Meglio raccontino altre favole, così scrive, non so, volete fare una battuta veloce? No, lavoriamo, rispondo. Prego. È chiaro che chi prende oggi 1200 euro al mese ha meno difficoltà ad arrivare alla fine del mese di chi ne prende 400, che magari è chiaro che se uno prende 400 euro al mese alla villa, quello non prende questa nostra iniziativa, però oggi ci sono delle situazioni sociali in Trentino che devono andare anche oltre queste visioni, quindi questa è la risposta. Spesa pubblica come ridurla e poi immaginiamoci un Trentino tra 20 anni e rispondiamo anche a Lorenza, che volta avrebbe un Trentino di destra? Spesa pubblica non occorre toccare, non dobbiamo toccare il sociale, non dobbiamo toccare la scuola, non dobbiamo toccare la sanità, questo perché quattro numeri, abbiamo già detto il NOT 200 milioni di euro costerebbe, per capire quali sono 200 milioni di euro il governo l'altro giorno a livello nazionale non ha trovato 300 milioni per i cassa integrati, questi sono i 200 milioni per il NOT di Trento, noi spendiamo 110 milioni di euro per il Marti in 10 anni, io non dico se sono stati spesi bene o male, io dico 110 milioni di euro per il Marti in 10 anni, noi siamo una provincia che spende 9 milioni di euro all'anno per la solidarietà internazionale, l'assessore Beltrami, ora del PAT, quindi il PAT ha speso 9 milioni di euro all'anno per la solidarietà internazionale, l'altro giorno la candidata del PAT, l'assessore Beltrami, ha fatto passare una delibera a 200 mila euro a Mozambique, comunque 200 mila euro che forse noi diciamo potevamo utilizzarli in altro modo, la nostra provincia ha speso 100 milioni di euro in 10 anni per le APT, sicuramente utile, non voglio mettere in discussione, però voglio far capire quali sono le risorse di cui dispone l'autonomia, quindi i tagli nel sociale non devono essere fatti e anzi devono essere investite le risorse per aiutare i Trentini che oggi sono in difficoltà e quindi i pensionati come dicevamo prima, i giovani e le nuove povertà dei 50 anni. Come vediamo il Trentino del futuro? Noi lo vediamo con un autonomista, la Lega non è un partito di destra, la Lega è un partito autonomista e federalista, però è chiaro che noi vorremmo che le risorse del Trentino fossero utilizzate per aiutare prima i Trentini, poi se ne avanzassero ancora in un momento di floridità economica possiamo pensare di fare della solidarietà internazionale, però se dei 23 milioni di euro di reddito di garanzia che noi spendiamo ogni anno, oltre la metà dei beneficiari sono non Trentini, questa è una cosa che diciamo che non va bene, quindi nell'ipotetico Trentino guidato anche dalla Lega metteremmo al primo punto gli interessi dei Trentini. Grazie per la visione! Grazie per la visione!